E' di 39 milioni di euro il finanziamento che dal Governo è destinato a Pistoia grazie al Bando per attuare il programma sulla qualità dell'abitare. Tre progetti ammessi a finanziamento con due elaborati da spesso e la Società Pistoiese di Edilizia Sociale, che con 15 milioni di euro rimetterà a nuovo 214 appartamenti alle Fornace e 24 case popolari in altre zone di Pistoia. Il progetto prevede interventi anche sulla mobilità a servizio di queste abitazioni e si faranno lavori su 50 chilometri di strade, asfaltandone tratti e rinnovando 200 pensiline di bus, punti luce e attraversamenti pedonali. L'altro progetto di spesso è sul buco nero urbanistico. Dal 2005 sono stati a vuoto spesi 4 milioni di euro in tentativi di riqualificazione dell'area ex Ricciarelli. Il finanziamento per 9 milioni di euro e la realizzazione di 32 nuovi alloggi ERP da destinare alla collettività. Si tratta di un progetto innovativo perché è fatto completamente in bioarchitettura, quindi con grande utilizzo di legno e energie rinnovabili in termini di approvisionamento energetico. Il terzo progetto finanziato dal Comune di Pistoia è per il parco delle mura urbane. Chiaramente la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle mura sono il cuore di questo tipo di intervento. Naturalmente non si limita alle sole mura, ma l'intervento è più vasto, guarda a ciò che c'è dintorno alle mura, a tutti gli spazi pubblici che sono lì presenti, che vengono tutti rivalorizzati, riqualificati e resi alla fruibilità dei cittadini. Gli spazi aperti e anche gli edifici pubblici che sono immediatamente adiacenti alle aree delle mura urbane. Con questi progetti in che misura avete colto l'opportunità data dal bando? Io credo al massimo, perché qualità dell'abitare, questo è il titolo del bando, era soprattutto rivolta all'edilizia pubblica e all'edilizia popolare. Quindi abbiamo sviluppato progetti che recuperano centinaia di appartamenti e quartieri di edilizia popolare, ma secondo me, con la bravura dei nostri uffici, il lavoro corale con SPES, abbiamo ampliato. Quindi abbiamo pensato che ci vuole una viabilità sicura, un trasporto pubblico efficiente e sicuro, piste ciclabili per collegare questi quartieri.